Mi piacciono i Beatles? E allora il titolo del brano è From me to you! Ci siamo? Abbiamo problemi di luce più che di audio di solito siamo problemi di audio qui invece oggi abbiamo problemi di luce si forse è meglio accendiamo perché se no non vediamo il tasto qui eh tra la tastiera, i violini, gli ottoni gli archi che devi fare? E vabbè d'altro onde Sanremo insegna il bello della gheretta bene altra poi com'è la pizza? Buon appetito eh? E' una tonta Torniamo ai Beatles quindi From me to you E' una tonta 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 E' una tonta